ben ritrovati aracnofili oggi parliamo di due bellissimi coltelli che hanno fatto un grande successo in quelli che sono i coltelli utilizzati per la difesa personale oggi parliamo in particolar modo del dello yojimbo in alto questo qui e dello yojumbo il suo fratello maggiore abbiamo già parlato in un video precedente del ronin vi consiglio di leggere nella descrizione e vi metto il link diciamo al video del loro predecessore che è stato il ronin oggi parliamo invece dello yojimbo e dello yojumbo più dello yojimbo perché poi lo yojumbo non è altro che lo stesso yojimbo fatto per chi ha le manone più grosse tranne qualche piccoli aggiustamenti aggiornamenti anche sulla manicatura come potete vedere qualcosina cambia nel nel design quindi partiamo con lo yojimbo ve lo apro e ve lo faccio vedere per intero da un lato e anche dall'altro e dopo aver ve lo fatto vedere questo è lo yojimbo 2 vi parlo di dello yojimbo in generale anche della prima edizione ovviamente come sempre in sovraimpressione metterò l'immagine del primo yojimbo lo yojimbo è la seconda collaborazione di spider co con il famoso artista marziale e istruttore master mbc michael janik la prima lama in collaborazione è stata quella fissa chiamata ronin è stata accolta avidamente dal pubblico e ha generato continue richieste per una versione pieghevole lo yojimbo è infatti la versione pieghevole ed ergonomica dato che le aree di competenza di mister janik sono le mbc e le arti marziali filippine il folder è stato progettato attorno a quella forma d'arte la lama è classificata come profilo whorcliffe modificato appositamente progettata per essere triangolare questa forma mantiene il tagliente a contatto con ciò che viene tagliato e la sua punta fine e affilata genera poca resistenza all'inizio e durante l'esecuzione di tagli penetranti da un punto di vista tattico l'acciaio della lama doveva essere robusto e resistente all'usura quindi è stato scelto il cpm s30v abbiamo quindi rettificato il tagliente completamente piatto dalla punta al punto in cui incontra il manico si vede anche nello yojimbo 2 l'impugnatura g10 dello yojimbo riempie il palmo come una stretta di mano offrendo maggiore destrezza e controllo sulla lama la sua coda affusolata serve a trattenere la presa e funge anche da punto di pressione o strumento per colpire per essere utilizzato secondo i rigori dell mbc c'era come requisito un blocco forte quindi si è scelto il compression lock la clip da tasca interamente in acciaio si aggancia per una mobilità ribaltabile appunto con la mano destra i cerchi ritagliati dalla clip e sul lato opposto dell'impugnatura servono come punti di riferimento disponibile con un manico nero o blu dopo aver sentito queste bellissime parole del primo yojimbo andiamo a vedere lo yojimbo 2 lo yojimbo 2 intanto raccontiamo un po di storia perché è stato scelto questo nome il nome deriva da un film d'epoca giapponese del 1961 e vi racconto un po la trama ci sono due boss del crimine in lotta tentano di assumere un samurai errante un ronin appunto che è arrivato nella loro città e quindi il nome dello yojimbo prende il nome proprio dal film yojimbo che poi si scrive con la n e non con la b in questo caso yojimbo in giapponese vuol dire guardia del corpo è un nome appunto appropriato per il coltello pieghevole difensivo progettato per spiderco da michael jannik l'attuale yojimbo 2 di spiderco è una versione migliorata dell'originale yojimbo ed ha debuttato nel 2005 il fondatore di martial blade concept quindi l'MBC michael jannik ha lavorato sulle proporzioni dell'originale yojimbo per creare appunto lo yojimbo 2 un coltello difensivo è molto più raffinato ovviamente jannik porta le sue esperienze con l'originale yojimbo e anche con il black hawk che vi metto come foto e il black hawk design i cosiddetti be warned appunto effondendo il primo yojimbo e il black hawk da vita al yojimbo 2 ha detto che nel realizzare lo yojimbo 2 non sentiva più il bisogno di usare il calcio del coltello per colpire o manipolare i punti di pressione in quanto tale la lunghezza complessiva del manico è stata accorciata di mezzo pollice sono state eliminate le fossette ai lati del coltello del manico quindi qui non ci sono più fossette ma è completamente liscio e che erano poste come punti di riferimento durante la manipolazione del coltello la lama dello yojimbo sebbene sia ancora in acciaio cpms 30v ora è hollow grind e non così angolare come la lama triangolare originale anche se a molti questa gobbatura dà fastidio infatti la smussano e customizzano il loro yojimbo e anche nello yojimbo c'è questa specie di naso che sale e poi scende la lama whorcliffe dello yojimbo 2 mantiene tutto il potenziale dell'originale ma è leggermente più spessa sulla punta a causa dell'hollow grind la lama è stata alleggerita dal jimping sulla parte posteriore della lama e serve solo a fare attrito sulla pelle quando si utilizza il coltello nella presa filippina con il pollice in avanti questo il bordo superiore della lama dello yojimbo 2 è liscio quindi qui è liscio non ci sono diciamo le scanalature tipiche per appoggiare il pollice però sostenere lo yojimbo 2 i liners interni in acciaio forniscono una struttura all'interno non so se se si vedono da questa inquadratura provo a zoomare eccoli qua così si vedono meglio ritorno allo zoom 1x forniscono una struttura all'interno del manico in g10 nero e a causa della sua elevata resistenza il compression lock viene utilizzato anche per lo yojimbo 2 quindi il coltello nuovo ha una clip per il trasporto a quattro posizioni quindi qui qui vicino la lama dall'altra parte e anche giù al contrario del precedente che l'aveva solo giù il foro per il cordino non è più presente prima c'era un foro per il cordino ora non più è stato rimosso anche perché un coltello tattico che si tiene tranquillamente con la clip in tasca non ha bisogno di un cordino 2 è progettato per stare in mano e in tasca a bordi più lisci ed è più facile da usare rispetto al primo yojimbo le produzioni di yojimbo 2 sono andate esaurite almeno per due volte quindi è un coltello che ha fatto veramente un successone vi do un po di di numeri visto che nei precedenti video ho dimenticato di metterli quindi l'altezza della lama è di 3,1 centimetri la lunghezza della lama è di 8,3 centimetri la lunghezza della parte affilata solo la parte del filo è di 7,7 centimetri lo spessore della lama è di 3,7 millimetri la lunghezza del coltello chiuso è di 11,4 centimetri e la lunghezza totale aperto è di 19,6 centimetri il peso è di 117 grammi e con lo yojimbo 2 abbiamo finito e passiamo al suo fratellone maggiore yojumbo ecco qui lo yojumbo andiamo ad aprirlo molto più grosso come potete vedere guardate che coltellaccio mettiamoli di nuovo insieme ve li faccio vedere meglio anche dalla inquadratura dall'alto come il mio solito cambio anche le luci quindi dopo aver fatto una bellissima panoramica andiamo a vedere lo yojumbo lo yojumbo è stato introdotto nel 2011 il design è quello praticamente dello yojimbo 2 di michael jannik che praticamente si è guadagnato un posto rispettato nella linea di prodotti spiderco e nelle legioni ovviamente di devoti seguaci in tutto il mondo yojumbo si basa su questo successo ampliando il design di oltre il 20 per cento e perfezionando la sua ergonomia per adattarsi a una gamma più ampia di dimensioni delle mani praticamente lo yojumbo non è altro che un uno yojimbo aumentato del 20 per cento come potete vedere il manico è bello grosso in maniera tale da essere impugnato anche a chi ha manone non come le mie che sono lunghe e sottili ma ci sono alcuni che hanno delle dita veramente tozze e secondo i miei gusti a me ad esempio sia il medio che il mignolo picchiano proprio su queste spigolature non so se le vedete del manico infatti alcuni che hanno fatto hanno modificato le manicature in maniera tale da avere una migliore presa sul coltello infatti queste per me ad esempio non vanno bene una e due che quando vado a prenderlo naturalmente mi si conficcano nelle falangi del medio e del mignolo però per chi ha ovviamente le dita un po più tozze e grosse la presa è molto ergonomica e molto precisa la sua formidabile lama wharncliffe rizzoomiamo sulla lama da 4 pollici 102 mm e hollow ground per una geometria del bordo superiore presenta un foro rotondo cosiddetto spider call con marchio e l'apertura è ovviamente ambidestra e con una sola mano ovviamente anche questo come lo spider call io cimbo si può aprire con una sola mano così anche con la sinistra così l'unico lato negativo che dico e non solo io ma anche tutti gli altri è che è difficile chiudere il coltello con la mano sinistra perché perché il movimento ovviamente se viene impugnato con la mano destra si tiene in questo modo il manico con l'indice si schiaccia il compression lock e la lama si chiude ok se viene tenuto con la mano sinistra il pollice dovrebbe schiacciare e non ci riesce molto è molto difficile cioè dovrebbe schiacciare il compression lock ma fate attenzione a come mettete le mani perché è molto pericoloso ed è difficile tenere solo col pollice e con diciamo il piatto delle dita dall'altra parte della mano è difficile tenere il coltello potrebbe sfuggirvi e vi potreste tagliare quindi con la sinistra è molto difficile chiudere questo coltello ovviamente questa non è una cosa che ho notato solo io ma una cosa che hanno notato in tanti ve lo faccio rivedere il compression lock è troppo piccolo e da molto fastidio perché non so se vedete c'è anche la lama che va a diciamo a sovrapporsi a quello che il compression lock non va per niente bene quindi questo è un errore che è stato fatto di costruzione un'altra cosa che ho notato diversa da lo yojimbo e che ha un codolo un po' più lungo è più appuntito mentre quello di yojimbo 2 come potete vedere è più arrotondato queste sono le uniche cose che ho notato in maniera diciamo più eclatante vi do anche delle delle misure per lo yojimbo la lunghezza della lama è di 101 mm ve la apro 101 mm lo spessore della lama è sempre 3,7 mm la lunghezza da chiuso è di 136 mm la lunghezza totale è di 236 mm spessore da chiuso 11 mm peso 150 grammi ve li faccio rivedere da chiusi tutti e due insieme da un lato e dall'altro e questi sono due dei coltelli più riusciti della spider co parliamo dello yojimbo e dello yojumbo al prossimo video dal vostro doc